È davvero emozionante celebrare oggi la ricorrenza dell'ottantesimo anniversario della Fondazione della Plac e che tutti i soci e le maestranze possano parteciparvi con entusiasmo e con motivato orgoglio. È l'occasione per ripercorrere la nascita della nostra società, delinearne il contesto storico, tracciarne le tappe salienti e portare alla conoscenza di tutti noi che quei tempi non abbiamo vissuto, motivazioni e stimoli che nonostante gli anni trascorsi paiono ancora di grande attualità e continuano a caratterizzare il dibattito intorno all'organizzazione dei produttori. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.